Sono il salutatore, se poteva fare un saluto insieme a me, a tutti i cittadini italiani, se è possibile, se si avvicina, così, ecco, straordinario. Sì, buongiorno a tutti, siamo alla manifestazione antifascista organizzata dall'AMP, dai sindacati, da tante associazioni, è stata bella perché è molto partecipata, tranquilla, pacifica e poi è importante che il Paese si raccolga sui valori della Costituzione e dica no al fascismo e no al fascismo del nuovo volto, quello che non ha esempiato Mussolini ma che si sta insinuando nella nostra società. Arrivederci. Grazie Presidente, ciao a tutti.